Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre Mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti che i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò sovra una regina a te mi affida affinché guidi i miei passi. Nel Regno del Volere Divino, estretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Ma tu mi farai la mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, ti canto una preghiera Quella che tu figlio ci ha insegnato per amore Noi ti glorifichiamo Noi ti glorifichiamo Padre nostro che sei Nei cieli Si è santificato il nome tuo Padre Tu sei il mio re Tu sei il mio re Venga il tuo re Tu sei il mio Dio Siamo volante a suo Per sempre in te E tu in me Come un cielo così terra Come un cielo così terra Come un cielo così terra Il cielo di cielo volume 22 21 agosto 1927 Come Gesù la vuole finire col mondo Potenza di ciò che si fa nel volere divino Per placare la giustizia divina Trovandomi nel solito mio stato Il mio adorabile Gesù È venuto tutto in fretta E gettandomi le braccia al collo Mi astretta forte forte Mi astretta forte dicendomi Figlia mia Io la finisco col mondo Non ne posso più Le offese Le pene che mi danno Sono troppe Perciò è necessario Che lo distrugga Io tremavo nel sentire ciò Gli ho detto Amore mio E vita mia Certo che soffri molto E che non ne puoi più Perché vuoi soffrire tu solo Ma se tu dividessi insieme Ma se tu dividessi insieme con me Le tue pene Soffriresti di meno E non giungeresti al punto Di non poter più sopportare Le covere creature Perciò Fammi parte delle tue pene Dividiamole insieme E vedrai Che potrai sopportarle ancora Fa presto Non soffrire più solo Provaci o Gesù Tu hai ragione Soffri molto Perciò ti prego Dividiamole insieme E placati Onde Dopo lunghe insistenze Il mio dolce Gesù Mi ha fatto soffrire Ma erano Le ombre delle sue pene Eppure mi sentivo Come distruggere Stritolare Ma non so dire Quello che ho sofferto E certe cose È meglio Tacerle Quindi Gesù Come stanco Del suo lungo soffrire Si nascondeva In me Per trovare Qualche sollievo Ed io mi sono sentita Tutta investire Da Gesù Mi vedevo dovunque Gli occhi di Gesù E mi diceva Che quegli occhi Erano stanchi Di guardare alla terra E cercava riparo La luce Degli occhi di Gesù Si fissava Su vari punti Della terra Ed erano Tante Le nefandezze Che si commettevano In quei luoghi Che quella luce Lo incitava A distruggerli Io lo pregavo Che rispiarmesse Mettendogli davanti Il suo sangue Le sue pene Nella sua vita Nella sua vita Il suo eterno volere E Gesù Tutto a bontà Mi ha detto Figlia mia La potenza Delle preghiere Degli atti Delle pene Sofferte Nel mio volere Sono inarrivabili Mentre Tu pregavi E soffrivi Il mio sangue I miei passi Le mie opere Pregavano Le mie pene Si moltiplicavano E si ripetevano Sicché tutto ciò Che si fa in esso Mi dà occasione Di ripetere di nuovo Ciò che feci Stando sulla terra E questo è L'atto più grande Per placare La divina giustizia Onde Eseguendo il mio giro Nel volere divino E non trovando Il mio dolce Gesù Mi lamentavo In me stessa E dicevo Tra me Come sarà Che Gesù Non viene più Così spesso Come prima E mentre Dice le meraviglie Del suo volere E dove vuol far giungere Chi vive in esso Invece di venire E più spesso Viene con più ritardo Ora Mentre ciò pensavo Il mio amato Gesù Si è mosso Nel mio interno E mi ha detto Figlia mia La mia umanità Si nasconde in te Ed io do Luogo E largo campo Alla mia divina volontà Per farla Operare Liberamente E farle formare Il suo regno Ci fu il tempo libero In cui la mia umanità Ebbe il suo campo D'azione in te E perciò Era sempre con te E da te Ed il mio Divino volere Mi fece fare Affinché ti preparassi A formare Il campo d'azione Più esteso Del fiat interminabile E io Debo lasciarlo fare Molto più Che non mi impedisce Di starmi con te Perché siamo inseparabili Ed io Stando in te Mi diletto Di legare l'anima tua Come un piccolo uccellino Col filo di luce Del mio volere E ti do il volo Nell'immensità Di esso Lanciandoti Nei suoi atti Innumerevoli Lasciandomi il filo Che ti viene legata Nelle mie mani E tu Allontanandoti Negli atti suoi Ti perdi di vista Mentre io Sto aspettando Che tu segui Tutti gli atti Della mia divina volontà Per tirare Il filo Dentro di te Tu prima Non seguivi Tutti gli atti Di essa Seguivi la piccola Cerchia degli atti Della mia umanità Piccola A confronto Di quelli Del mio volere divino Perciò Ogni tuo atto Ogni pena Ti faceva incontrare Il tuo Gesù Ed io ero tutto Intento a farti copiare La mia umanità Perciò Era necessario Che stessi Col pennello in mano Per formare Intera mia immagine Per disporre La tela Dell'anima tua A ricevere I vividi colori Intinti Nella luce Del mio Fiat Perciò Ciò che era necessario Prima Non è necessario Dopo Ma con ciò Non vuol dire Che io non sto con te Viviamo insieme Nell'eclissi Di una luce Di una volontà Eterna Ed è tanta La sua luce Che si eglissa E ci fa sperdere Tutti e due Tanto che Se si moderasse La luce Io vedrei te E tu Vedresti me E ci troveremmo Come se mai Ci fossimo Separati Bene Cominciamo la meditazione Su questo brano Odierno Che ci mette In contatto E sottopone Alla nostra Meditazione L'attributo L'aspetto Della divina giustizia Di come Essa Ecco In certi Contesti Senta quasi Come dire L'urgenza Di Di intervenire Per porre fine Al male E quindi A questo fine È necessario Porre in atti Degli esseri Porre Porre in essere Degli atti Necessari Per Come si dice Nella tradizione Per placare La divina giustizia Luisa stessa Dice E Attirare La misericordia Perché in luogo Dell'eliminazione Non solo del male Ma anche dei malvagi Sia data la possibilità Ulteriore Di conversione Entrare in questo Ambito di meditazione Vuol dire Come sempre Accade Però In certi ambiti Un po' di più Navigare dentro Un Un mare Di misteri Che è bene Ricordare Anche perché Credo che sia Sempre importante Per noi Ricordare la nostra Piccolezza Davanti a Dio E quanto Esso Tra le tante cose Che ha Sia anche per noi Profondamente Incomprensibile A me tante volte Capita di Ricevere Telefonate Mail Dove Mi vengono poste Una serie Di domande A volte Anche un po' Di Di curiosità A cui io dico Dico Figlio Non si può rispondere A questa Domanda Solo Dio Sa la risposta E questa risposta Dio sembra Tra l'altro Che in questo mondo Non la dia Perché non ritiene Opportuna darla E se non ritiene Opportuna darla Questa risposta Non c'è Mi spiego un attimo No Qui Luisa Vede Gesù Che soffre Tanto Fino al punto Che le dice Guarda Soffriamo insieme Così se soffriamo insieme Sentirei un pochino Sentirei un pochino Non meno il peso Di questa sofferenza E così Riusciremo a stornare Le esigenze Della divina giustizia Evidentemente Questa è una cosa Molto bella No Ma Il senso Delle sofferenze Di Gesù Se noi ci mettiamo A pensare Con la nostra Limitata intelligenza Cominciamo a pensare Ma Gesù adesso Non soffre Gesù adesso È in cielo Seduto alla destra Del padre Ed è vero Però Siamo dinanzi A queste espressioni Che Gesù usa Quindi Sembrano Un'apparente Contradizione Apparente Contradizione Perché ci sono Tante cose Che noi Non consideriamo Per esempio I dolori Che Gesù Ha vissuto Attraverso La sua dolorosa Passione Certamente Si sono verificati In un determinato Tempo Della storia No Però Anche lì Ci sono Una montagna Di misteri Perché Nelle pene Della vita Terrena Di Gesù Si è concentrato E si è scaricato Tutto Il male Commesso Dall'uomo Da Adamo Fino All'ultimo uomo Se noi Cominciamo a pensare A questi Misteri Con le nostre Categorie Che Gesù Ha sofferto Duemila anni fa Com'è possibile Che si è preso Il dolore Di Gente E il carico Del peccato Di gente Che sarebbe vissuto Quattromila anni dopo Allora Stiamo nel mondo Di Dio E poi Qui Gesù Spiega Stiamo nel mondo Della divina volontà Sappiamo bene Che in Dio E nella divina volontà Le categorie Temporali Non è che si muovono Tanto bene Per usare Un eufemismo L'atto unico Del Fiat Supremo Un concetto Insomma Che Molti manda Un pochino In crisi Questo è il mondo Di Dio Per cui Le cose Che per noi Ancora non sono In Dio Già sono passate Così come Quelle che furono In Dio Sono presenti Quindi Non Non possiamo Approcciarci a queste realtà Con la nostra povera Testorina umana Così come quando Troppo frettolosamente Si parla Avvanvera Della giustizia Negandola di fatto La giustizia divina Ma Dio è buono Dio è amore infinito Dio è misericordioso Ti pare che Punisce Castiga Interviene Flagelli Tutta tanta La terminologia Che si trova Anche nella Non soltanto Nelle scritte di Bisa Ma anche nella Nella tradizione No Se uno legge Le preghiere eucaristiche Anche quelle Della Del Novo Sordomisse Per esempio Un passaggio Della preghiere eucaristica Terza È assai significativo Poi in italiano È stata tradotta Un pochino In maniera un po' Approssimata No? Ma di per sé C'è un passaggio Della preghiere eucaristica Terza Che Lo vorrei leggere Insomma Con voi Insomma Perché È bene È bene Comprendere Anche No? Lo sto cercando Un attimo Il testo latino Dice Così La traduzione letterale Che né nella nuova traduzione Né nell'antica traduzione Resa Nelle sue Testuali parole Eppure In latino Questo c'è scritto È Ti chiediamo Guarda All'offerta All'offerta della tua chiesa E Accogliendo La vittima Per la cui Immolazione Hai voluto essere Placato Concedi Che Coloro Che sono Nutriti del corpo Del sangue Del tuo figlio Piene di spirito santo E Diventiamo In Cristo Un solo corpo Un solo spirito Noi Oggi Quando sentiamo Parlare Della parola Placare Non ci entra Dentro la nostra Testolina Perché abbiamo Già Formulato Un Giudizio Secondo le nostre Categorie Che è così Se Dio è amore È bontà È misericordia Questo concetto Dell'essere Placato Come se Si arrabbiasse Oppure Dovesse scatenare Il fine La fine del mondo È in contraddizione Con questo concetto Con il concetto Della sua diventina Divina misericordia Non è vero Questo qui Molte volte Noi ci accostiamo Anche a tante realtà Sopranaturali Con le nostre Categorie mentali E con quelle che si chiamano Le nostre Precomprensioni Noi non possiamo Fare così Questo è un Processo Proprio completamente Sballato Perché noi dobbiamo Metterci con estrema Umiltà Dinanzi A questi testi O anche dinanzi A un testo Come quello di oggi E non cominciare a dire O a cercare di Di bypassare Vabbè Andiamo oltre Perché È un argomento Ostico Perché Mi mette un po' In crisi Mi manda un po' In crisi Non lo possiamo fare Oggi comincia Il mese Dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù A proposito Delle sofferenze Di Gesù E che Luisa Si offre A fargli Compagnia Appunto Per Per placarlo Per consolarlo Se si preferisce Questo Questo termine Ma Le rivelazioni Del Sacratissimo Cuore di Gesù Siconosciutissime Dalla Chiesa Tanto è vero Che c'è una festa Lidurgica L'onore del Sacratissimo Cuore di Gesù Non molto lontana Perché Cade nell'ottavo Del Corpus Domini Cioè Il venerdì Dopo La domenica In cui si festeggia Il Corpus Domini Che cosa sono Le rivelazioni Rivelazioni Del Sacro Cuore Gesù Chiede Consolazione E riparazione Per le offese Continue Cioè Quello che abbiamo Letto oggi Con cui Il suo cuore È continuamente Offeso Con Esecrabile Ingratitudine Odiosa Indifferenza Quando non Sacrilegio Oltraggio Irriverenza Bestemmia Odio Ecco Il cuore Che ha Tanto amato Il mondo E in cambio Non riceve Altro Che ingratitudini Almeno tu Cerca di riparare Di consolarlo Di accogliere il suo amore Di ricambiarlo Ma soprattutto La spiritualità del Sacro Cuore È una Spiritualità Di Riparazione Che significa Riparazione Le esigenze Di quel cuore Tanto offeso Tanto 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 Bistrattato Vanno Ripristinate Ti amo Anche per chi Non ti ama Ma le penitenze Che faceva Se uno legge la biografia Di Santa Margherita Maria La Coc Che Effettivamente Cioè Credo che Non Non sia Temerario Dire che Insomma Santa Margherita A volte È un pochino Esagerato Mossa Dal suo Immenso Amore E da questo Spirito Profondissimo Di riparazione Anche qui Cioè Se uno Legge La sua biografia Cioè Io questa è una cosa Che ho sempre avuto Chiara Cioè Noi non possiamo Sulla base Ripeto Delle nostre Personali Convinzioni Sparare giudizio Sentenze Rilevanti Per la fede Se uno legge una biografia Di una Santa Margherita Maria La Coc O Della sua Sorella di fede E di dolore italiana Santa Veronica Giuliani Ma Cioè Si provi Cioè Uno rimane Letteralmente Sconvolto Perché alla fine Di quella lettura Dice Ma io qua Mi sa che non c'ho proprio Capito niente Di quello che è Il cristianismo Cioè O non ci ho capito niente Io E l'ambiente In cui mi trovo O non ci hanno capito niente Questi Ma questi sono Santi canonizzati Che bisognerebbe Allora Come dire Ricoverarli Mi si perdoni Evidentemente Sto parlando Come dire Per assurdo Perché non si devono Ricoverare loro Dobbiamo essere ricoverati Noi Non loro Allora È molto importante Per noi Lasciarci Provocare Anche Lasciarci mettere In crisi Delle nostre Presunte Appiccicaticce A volte Convinzioni Religiose Che dopo diventano Pseudo Religiose Cioè È proprio Delle Persone Sagge Potrei dire Normali Noi non possiamo Stravolgere La realtà Manipolare La realtà Noi Dinanzi Alla realtà Dobbiamo porsi Dinanzi Ad essa Così com'è Questo Oggi Gesù ci dice Non è che Siccome Questo Sconvolge Alcune Mie Categorie O mi mette in crisi Perché me ne rende Come dire Incomprensibili Io Edulcoro Cambio Ignoro Mitico Non si può fare Non è una cosa saggia Fare questo È una delle tante Purtroppo Manifestazioni Di quell'ego Folle Dell'uomo contemporaneo Che si crede Il padrone Di tutto Il manipolatore Che si crede Questo è un problema Adesso Questa è una meditazione Non è una catechesi Quindi Che si crede A differenza di quello Che si credeva un tempo L'uomo contemporaneo Si crede che è lui A Come dire A costituire Plasmare E rimanipolare La realtà L'uomo classico L'uomo di un tempo Pensavo al contrario È la realtà Che Come dire Mi struttura Mi struttura Perché io ad essa Mi devo adeguare Io non devo fare in modo Che la realtà Si adegui a quello Che penso io Ma io mi devo adeguare A quello che è reale Non è un gioco di parole Questo vale anche In tutte le circostanze Della nostra vita Ecco Quindi Questo aspetto È fondamentale Cioè Stiamo nel mese Del Sacro Cuore Oggi Gesù ci è arrivato Ad un piccolo segreto Cioè La potenza Delle preghiere Degli atti Delle pene Sofferte Nel mio volere Sono inarrivabili Allora È necessario Continuare E oggi più che mai Anzi A Offrire al Signore Forme per Placare La divina giustizia Usiamolo Questo termine L'ho letta apposta La preghiere ocaristica Numero 3 Della Chiesa Cattolica Del messale Del novus Ordomisse Non Del messare usato 1500 anni fa Sul quale Qualcuno potrebbe Porre Qualche A mio avviso Del tutto Ingiustificata Obiezione Ripeto Agnosciens Ostiam Cuius Voluisti Immolazione Placari Qual è il segreto L'atto più grande Dice Gesù Per placare La divina giustizia Quindi noi possiamo Vivere un grande mese Del sacro cuore Perché Abbiamo una risorsa Che Santa Santa Margherita Pur con tutta la sua Veramente Eccellentissima Santità Ha un esempio Più da ammirare Che da imitare Una Santa Di quel calibro Non aveva Non conosceva ancora La potenza Della divina volontà E quindi Gesù spiega La potenza delle preghiere Preghiamo nella divina volontà Degli atti Gli atti fatti Nella divina volontà Le pene Le sofferenze Sofferte nel mio volere Sono inarrivabili Perché Come sempre Cioè Se noi offriamo al Signore Un sacrificio Come dire Di nostra Spontanea volontà E con tutto l'amore Che possiamo Certamente che il Signore Lo gradisce Che è contento Ma è il nostro Piccolo sacrificio Quanto vale Agli occhi suoi È un atto Di una povera creatura Di una povera creatura Limitata È un atto Come ci insegna La sana dottrina ascetica Ordinariamente Imperfetto Cioè è imperfetto Nelle intenzioni Perché non è che lo facciamo Solo e soltanto Per amore del Signore Magari È imperfetto Nell'esecuzione Magari Non è fatto Molto bene O potremmo essere O potremmo essere più generosi È imperfetto Perché Che ne so In un momento Offro un sacrificio Al Signore Non lo so Rinuncio a una cosa Che mi piace tanto E cinque minuti dopo Faccio Un atto di impazienza E penso Dico ma Figuriamoci che Pensa il nostro Signore Insomma Forse era meglio Che mi dominavo E non facevo Quest'atto di impazienza Piuttosto Tutti quanti i pensieri Che ci vengono Perché questi Sono i nostri atti Attenzione Il nostro Signore È un papà Quindi Li accoglie Veramente con gioio Perché noi Davanti a lui Siamo tutti quanti Dei bambini Pasticcioni Impastrocchiati Insomma Come sono i bambini Però ci abbiamo Un segreto adesso Quindi Noi Siamo noi Che possiamo unire Questa è l'importanza La povertà La nullità Il poco meno che zero Delle nostre piccole cose È all'immensità Di quello che ha fatto Gesù Perché La mia preghiera È cosa piccola I miei atti Sono cose piccole Le nostre pene Sono cose piccole Le nostre sofferenze pure Ma Le preghiere di Gesù Gli atti di Gesù Le opere di Gesù Le pene di Gesù Di che cosa ne vogliamo parlare Sono cose grande Allora Gesù dice Guarda che mentre tu Pregavi E soffrivi Il mio sangue I miei passi Le mie opere Pregavano E le mie pene Si moltiplicavano E si ripetevano E che cosa succede Che Quando tu operi Nel mio volere Si ripete Di nuovo Ciò che feci Stando sulla terra E qui Gesù di nuovo Rientra Nelle categorie Temporali Perché Certamente Quello che ha fatto Quando era sulla terra Nella divina volontà È sempre in atto Tuttavia Nel tempo Adesso È in atto Quasi Sempre Sacramentalmente Cioè Uno dei motivi Per cui Gesù Si è inventato La messa Non è soltanto Credo Ecco Per fare entrare Gli uomini Di ogni luogo Di ogni tempo In contatto diretto Col sacrificio Della croce Potersi nutrire Del suo corpo Del suo sangue Eccetera Ma è stato anche Un modo Con cui Diciamo così Tutto lo spazio Temporale Che scorre Sul pianeta terra È sempre coperto Speriamo Anche adesso Perché il numero Delle messe È enormemente Precipitato Nel basso È enormemente Diminuito Tantissimo Speriamo Che sia Duttora Certamente Lo sarà Ecco Che non esiste Secondo Che scorre Anche in questi Secondi che stiamo Passando Dove Non c'è Qualche posto Sulla terra Dove si sta Celebrando la messa Dove si sta Offrendo il divino Sacrificio No Questo ci dobbiamo Pensare Ecco E questo vale Dal punto di vista Sacramentale Solo che la messa La celebrano Soltanto i sacerdoti D'accordo Una persona Che sacerdoti Non è Come fa A rendere Continuamente Presente E operante Nel corso Del tempo Terreno Nel tempo Che scorre Per noi Ciò che Gesù Ha fatto Muovendosi Nella divina Volontà Portando Tutte quante Queste cose Nella divina Volontà Io suggerirei Anche Perché Si può fare Cioè le cose Che ha fatto Una santa Margherita Maria La coq È quasi impossibile Poterle Rifare E ripeto È una santa Più da ammirare Che da Imitare Quello che però Noi possiamo fare Questo Gesù Ce lo dice Noi possiamo Tranquillamente Farle un piccolo Regalo Quindi Fonderci Nella divina Volontà E fare Nostre Tutte quante Le cose Che ha fatto Questa grandissima Innamorata Di Gesù E Unirle al Dio Volere Così si fa Un grande Regalo All'Altissimo Si fa anche Un grande Regalo A lei Che ne sarà Sicuramente Felicissimo Perché Già quelle cose Che erano Già Enormemente Grandi In se stesse Anche se Appunto Limitate In quanto Atti Di una creatura Assumeranno Una bellezza E un valore Incalcolabile Dinanzi Al Signore Ecco La meditazione Di oggi Termina Con un tema Tipico Luisa Che Ricorda I momenti In cui La presenza Dell'umanità Di Gesù Era più viva E quindi La faceva sentire Allietata Di amore Rispetto A quelli Attuali In cui Non vieni Quasi più Non vieni Più Spesso Ma come mai E Gesù Dice Perché adesso È arrivato Il tempo In cui È finita Diciamo così L'operazione Con cui La mia umanità Avendo campo Libere Doveva Prepararti Per formare Per formare Il campo D'azione Del Fiat Adesso Il regno Del Fiat Si sta Stendendo Dentro di te E quindi A questo Non serve La mia umanità Ma serve L'assenza Della 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 mia umanità L'assenza Sensibile Ovviamente Ricorda Tutta via Che nella divina Volontà Non soltanto Che mi trovi Come prima Ma addirittura Più di prima Quindi Anche Luisa Come tutti Ha avuto Questo Processo Di purificazione E anche lei Ha dovuto Come dire Passare Quindi Imparare Che La cosa Più bella Più grande Più importante È la divina Volontà Più importante Anche Del contatto Con l'umanità Sensibile di Gesù Che è chiaro Che la nostra natura Ci tende Perché è una cosa Bellissima Ecco Mi occorre lasciare Il libero corso E spazio Quindi ha la divina Volontà Perché compie In noi La sua opera Ed instauri In noi E nel suo regno E nel suo regno E nel suo regno E nel suo regno Bene, ringraziamo il Signore che oggi ci ha condotto all'interno di grandi misteri, di realtà, non sempre alla portata della nostra comprensione. Quindi, dinanzi alle quali dobbiamo sempre avere un atteggiamento di profonda umiltà e quando non capiamo qualcosa, dire al Signore non fa niente che non capisco, l'importante è che capisci tu. Se la tua bontà avrà la grazia di darmi qualche piccola luce che ritiene necessaria è bene, se no io fermamente accetto, faccio mio, accolgo quello che tu mi dici anche quando non lo comprendo, anche quando mi metti in crisi, anche quando mi altera qualche mia personale convinzione o qualche mio schema mentale. Ti chiediamo, Signore Gesù, nella divina volontà, la grazia di poter vivere bene questo mese dedicato al tuo sagratissimo cuore e sulla base di quello che ci ha insegnato, offrirti tutti quanti i nostri atti, preghiere, sacrifici, pene, sofferenze e riparatrici, per la consolazione del tuo cuore, perché scenda la grazia sul mondo e perché siano in molti a conoscere o tornare ad accogliere il mistero del tuo infinito amore. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amin. Fiat Ave Maria